Ciao! Oggi come leggete dal titolo siamo qui per provare la nuova collezione Nabla, la Cutie Collection che io ho acquistato sul loro sito ufficiale appena è uscita. Ho acquistato giovedì e il pacchetto mi è arrivato venerdì. Ci hanno messo un giorno lavorativo, tutto perfetto, niente di rotto, nonostante comunque la situazione che sappiamo bene. Quindi assolutamente io ve lo consiglio, ve l'ho sempre consigliato in passato e ve lo consiglio anche tuttora. Trovate il link in descrizione. Tra l'altro la collezione è scontata dal 15% fino al 22% se non erro. Spero di riuscire a caricarvi prima questo video. Ovviamente non ho potuto acquistare tutta la collezione perché sarebbe stato folle. Ero tentata ma mi sono data una regolata ai pezzi che più mi interessava provare e ai pezzi che interessavano a voi. Specialmente su Instagram vi ho fatto un mini sondaggio così per capire un po' che cosa vi interessava anche a voi. E siccome mi è stato chiesto su Instagram, anche se io ho ordinato il set Wildberry, non è arrivato nella confezione PR che è stata mandata ai influencer. Quindi vi arrivano tutti i prodotti sciolti nelle loro confezioni esterne. Ma appunto adesso li andremo a vedere per bene. Il prezzo dell'intero set è di 53,30€ a prezzo pieno mentre ora è scontato a 39€. Allora, siccome ho acquistato due palette delle tre uscite, direi di fare un occhio con una e un occhio con l'altra. Così vediamo più o meno i colori e appunto cercherò di tenere il makeup più a lungo possibile in modo da vedere anche come si comportano durante l'avanzare delle ore. Io ho preso, vi ripeto, la Wildberry che è fatta in questo modo e la Platinum. Hanno entrambe una confezione trasparente a proteggerle come packaging secondario. Dietro ci sono gli ingredienti dei vari ombretti. Ve le ho tirate fuori dalle confezioni esterne così potete vedere meglio questi packaging che ve l'ho detto in passato e continuo a ripeterlo. Nabla, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Made in Italy, fa i packaging più curati, più dettagliati e più belli esteticamente. Cioè questo qua della Wildberry, queste more, mirtilli, lamponi, fragole, sembrano vere. Cioè davvero, non so se in video rende, ma sono curate nei minimi dettagli. Sono piccoline proprio perché è il concetto delle cutie palette. Sei ombrette all'interno per ricreare look completi e veloci anche in viaggio. Quindi comode per essere portate in viaggio. Hanno un costo di 23,50€ a prezzo pieno, mentre adesso sono scontate a 19,97€. Una scadenza di 18 mesi dell'apertura e ogni ombretto contiene all'incirca un grammo virgola due, più o meno, fatto un conto veloce e più o meno siamo lì. All'interno hanno entrambe uno specchio e direi di iniziare subito con la Wildberry. Vi ho avvicinato un po' così magari potete vedere meglio l'applicazione e ho applicato un correttore come base fissato leggermente con un po' di cipria. Ora vado a prendere il primo colore che è questo qua e fa parte della texture Latex Matte. Una texture che non tutti apprezzano. Io ho provato per ora solo quelli nella Dream E2, quindi offline, che era il violaceo scuro e il rosso, di cui non ricordo il nome, lo applico nella piega questo. E mi sono trovata benissimo, è una texture che ho amato. Non so in video cosa riuscirete a percepire, però è un bellissimo colore di transizione. Un pesca chiaro, non è troppo scuro anche sulla mia carnagione chiara, però non è neanche inesistente. Cioè io lo vedo e davvero mi piace tantissimo. Ora prendo lui, che è un lampone con del marrone, però all'interno un po' spento come lampone. Non sto a dirvi nomi perché come sapete io e l'inglese non andiamo d'accordo. Questo spolvera già un po' di più nella cialda e anche fa molta polvere, quindi comunque sbattete bene i pennelli. E questo lo vado ad applicare nell'angolo esterno, portandolo ovviamente sempre sopra la piega. Ora prendo questo colore qua che è un viola molto molto scuro e lo applico nell'angolo esterno. Ora con il dito vado a prendere lui e lo applico, facciamo su tutta la palpebra mobile. È molto glitterato questo, che finisce? Metal Foil. Direi che per ora ci fermiamo con questo lato perché ho bisogno della base completa per fare il resto. Vado da quest'occhio, sempre correttore fissato con un po' di cipria. Andiamo con la Platinum, che ha invece queste sei colorazioni. Non so se riuscirò a utilizzarle tutte, queste qui, perché ci sono più metallizzati rispetto a opachi. Quindi inizio con questo marrone più chiaro. Opaco e lo applico nella piega. Diciamo che su di me è già troppo scuro per essere utilizzato come colore di transizione. Lo utilizzerei come secondo colore in un look, quindi ho cercato di sfumarlo il più possibile per attenuare un attimo la colorazione, però sì, non è proprio il mio colore di transizione. Ora vado a prendere il colore più scuro, il marrone più scuro e lo applico all'angolo esterno. Questo invece lo definirei come un grigio molto molto scuro. Tra l'altro sono andata ad applicare anche un po' di nuovo questo primo colore che abbiamo applicato sopra al grigio scuro ed è più caldo rispetto a come l'avevo applicato prima. Si vede che c'era ancora un po' di base appiccicosa e come sapete se è bagnata la base un po' tende a scurire gli opachi. Vado a applicare lui, con le dita però, che è questo grigio piombo, lo definirei. Ha una texture diversa rispetto agli altri, infatti viene descritto super sparkle proprio perché è più glitterato all'interno. Lo applico qui. Wow. Con il pennello invece adesso vado a prendere questo marrone e lo applico nella prima parte della palpebra. Non so cosa voi riuscirete a percepire dalla videocamera, però mi piaceva troppo questo marrone top qua, quindi sono andata a coprire il grigio che avevo applicato prima e l'ho lasciato proprio solo verso l'angolo esterno. Mischiati insieme danno ancora un altro colore troppo particolare da descrivere, cioè non è né un grigio né un marrone. È stupendo. Vado a fare la base perché non mi posso vedere così e cerchiamo di sistemare un po' i trucchi perché al momento non sono il top, me ne rendo conto. Con la base cambia completamente tutto. Comunque vado a prendere di nuovo la Wildberry e sistemo la sfumatura qui nell'angolo esterno perché ho visto che in video non risultava bella come dal vivo. Non so se ora cambierà qualcosa. Il problema è che io qui ho una venuzza che si vede anche se applico il correttore, anche se applico gli ombretti, quindi magari può risultare macchia in quest'area ma in realtà non c'è macchia dal vivo. Comunque vado a prendere questo colore che ci manca e lo applico nella rima inferiore. Proprio all'attaccatura delle ciglia inferiori prendo un pizzico di viola, ma proprio poco poco, e vado verso l'angolo esterno. Non so come farvi vedere questa cosa perché è difficilissimo. Questo fucsia qui lo applico un pochettino anche tra il metallizzato e lo scuro. Ora prendo Alchemy 2.0 e lo applico all'angolo interno. Ora per completare quest'occhio vado a provare questo nuovo prodotto. Questa è la scatola esterna e si tratta del Cupid's Arrow, spero si dica così, lo stick cremoso che può essere utilizzato sia nella rima interna sia come eyeliner. Io appunto oggi lo utilizzerò nella rima interna, anche perché come sapete io l'eyeliner non lo faccio praticamente mai. Questo è il packaging primario, ha un costo, ve lo dico subito, di 15,90€ a prezzo intero, mentre adesso è scontato a 13,52€. All'interno contiene 0.8 grammi di prodotto e ha una scadenza di 18 mesi dell'apertura. Sul fondo è presente anche il temperino per temperarlo perché è uno di quei stick che si gira per farlo uscire. E appunto questo è il colore, un bellissimo melanzana viola scuro, completamente opaco. E questo è l'effetto. Ora procediamo con l'altro. E qua è un po' più complicato. Direi che applico questo qui tra le ciglia inferiori, nella rima inferiore. E poi riprendo sempre il marrone scuro e sempre vado proprio all'attaccatura. Ora, non so se sto facendo una cavolata, ma appunto abbiamo detto che vogliamo provare tutti gli ombretti. Prendo l'argento e lo applico un po' all'angolo interno. Quindi questo è quello che è venuto fuori per ora. Ora applico il mascara e torno subito. E questo è l'effetto con anche il mascara. Allora, devo dire che io sono soddisfatta dei look che sono usciti fuori. Mi piace il risultato finale. Questo è quello che sono riuscita a fare io con le mie capacità. Vi ripeto, non sono precisi. In più, i miei occhi sono completamente diversi. Uno è più chiuso rispetto all'altro. Ora non so quale dei due, però c'è questa cosa. Però vi ripeto, mi piace a me l'effetto. Fatemi sapere voi nei commenti con quali colori mi vedete meglio. Io personalmente team Wildberry, cioè tutta la vita. Non lo so, forse questo qui non me lo vedo così tanto bene perché magari ho esagerato con gli ombretti. Dovevo mettere una quantità inferiore di ombretti tra shimmer e opachi. Però questi sono i miei colori, non c'è niente da fare. Allora, prime impressioni su queste due palette. Inizio appunto dalla Wildberry. Mi sono piaciuti tutti, tutti i colori. L'unico che mi lascia un po' è lui. Perché secondo me, avendo dei micro glitter all'interno, quando viene un po' sfumato, tipo io dovevo sfumare i bordi con lo scuro e con Venom, lui, questo qua, ha perso un po' di intensità, ha perso un po' di brillantezza. Mi ricorda un paio di ombretti contenuti nella Dream E2. Probabilmente hanno lo stesso finish. Non sono andata a controllare, però, quel tipo di finish che se non viene bagnato o comunque se non ha una base appiccicosa al di sotto, non resta attaccato alla palpebra. Al minimo movimento scompare. È l'unica accortezza che vi direi per quanto riguarda questa palette. Per il resto invece mi sono trovata benissimo. Gli opachi sono molto sfumabili, molto pigmentati, ma allo stesso tempo modulabili. Cioè basta sbattere il pennello, andare con poco prodotto alla volta e riuscite tranquillamente a lavorarli. Sì, sono polverosi nella cialda, ma personalmente se non fanno fallout a me non è una cosa che interessa. Mi è piaciuto anche questo albicocca pesca. Vi ripeto, a me i latex matte piacciono come ombretti, quindi non ho avuto difficoltà anche con lui. E Alchemy 2.0 è bellissimo. Cioè ha un effetto duo chrome fantastico. Secondo me bagnato rende ancora di più, però anche da asciutto è wow. Vi faccio magari vedere un confronto con Alchemy mono, siccome lo possiedo, se volete farvi un'idea. Però sì, come palette, come colori, come trucco, come mi stanno è top. Cioè non ho nulla da dire, mi piace davvero davvero tanto. Mentre per quanto riguarda la platinum, ho avuto più fallout rispetto a quest'altra. Non so se in video appunto siete riusciti a percepire, però praticamente tutti gli shimmer tranne lui mi hanno dato fallout, specialmente questo qui, però niente di irreparabile, non mi ha proprio macchiato la pelle. Gli opachi anche qui stupendi come quelli della Wildberry, stesse caratteristiche. Anche questa mi è piaciuta, bisogna appunto, secondo me, fare la base dopo con questa palette. Mentre per quanto riguarda lo stick, il colore è fantastico, secondo me tira ancora più fuori il verde dei miei occhi e mi piace tantissimo. La pigmentazione è altrettanto alta, io appunto l'ho provato solo nell'arima interna, quindi non vi so dire come si comporta all'esterno dell'occhio, però se rimane così per tutto il giorno, secondo me è fantastico come prodotto, anche perché si fissa e per ora è lì fermo dove l'ho applicato. Molto intenso, molto vibrante. Ora passiamo all'ultimo prodotto che ho acquistato di questa collezione, ossia uno dei tre rossetti usciti, il Glam Touch Luminous Lipstick. Questa è la confezione esterna che cambia a seconda del rossetto che scegliete. Io appunto ho preso quello del set Wildberry, quindi a questa confezione, con questo packaging sul violaceo, sotto c'è l'etichetta e questo è il colore. Non il mio preferito tra i tre, mi piaceva di più il nude del set Platinum, se non erro, quello un pochettino più scuro e non sul beige chiaro, però appunto ho preso questo qua perché faceva parte del set e perché il matitone invece mi piaceva di più. Ho fatto una scelta, ecco. Però vi ripeto, il mio cuore batte ancora per quel rossetto e non vi nego che magari in futuro andrò a riacquistarlo anche lui. Comunque, questi rossetti hanno un costo di 13,50€ a prezzo pieno, mentre adesso sono scontati a 11,48€. Contengono 3 grammi di prodotto e hanno una scadenza di 18 mesi dall'apertura. È piccolissimo, credo sia 18. Allora, questo è il colore applicato male, tra l'altro, infatti perdonatemi se non è proprio preciso, però è un rossetto cremoso dal finish lucido e solitamente con questo tipo di rossetto, con questo tipo di finish, preferisco utilizzarlo insieme a una matita per essere appunto più precisa, essendo anche un colore molto molto intenso, molto scuro, però ho notato essere costruibile. Se fate una singola passata, risulta meno intenso rispetto al colore che vedete, che sono due passate. Mi piace tantissimo il colore, forse, vi ripeto, ultimamente preferisco i nude e sicuramente non l'utilizzerei con dei trucchi occhi del genere, perché o punto sugli occhi o punto sulle labbra, non tutte e due, però oggettivamente è davvero un bel bel colore lampone berry. In più, ho notato che al momento non lo sento né estremamente lucido, appiccicoso, ma neanche appunto troppo presente, troppo opaco, non mi va a seccare, ecco, le labbra. Vi farò sapere per quanto riguarda la durata, se sbava oppure no, anche in questo caso, avendo comunque un finish lucido e spero che si veda che non è del tutto opaco. Quindi, questo è tutto per questo video. Queste sono le mie prime impressioni sulla nuova Cutie Collection di Nabla. Fatemi sapere voi nei commenti se avete acquistato qualcosa, se avete provato qualcosa, cosa vi ispira, cosa non vi ispira. Lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!